Ho visto stamattina la quarta puntata, devo dire la prima sensazione che ho avuto è di ritornare indietro di vent'anni quando mi trovai con immagini molto simili a fare un'indagine proprio su un sistema dei rifiuti tra la Calabria quando lavoravo come pubblico ministero e proprio il nord Italia e all'epoca ci fu anche diversi arresti. Ecco io mi auguro che queste vicende così inquietanti non rimangano solo una coraggiosa inchiesta giornalistica ma che ci siano immediati risvolti giudiziari perché non è possibile assistere come se fosse un film, questo non è un film, non è come un film che rappresenta in qualche modo quella che si immagina possa essere la realtà, questa è la realtà. Siccome i procedimenti li fanno i magistrati noi non possiamo trarre conseguenze di tipo penale però da cittadini, io da sindaco, come dire, da anche ex magistrato posso dire che anche questo quarto video rappresenta con inquietudine quello che sono fatti veri e chi li ridimensiona in qualche modo ne diventa connivente, ne diventa complice e la mette in caciara. Insomma per dirla a breve i camorristi non sono sicuramente i giornalisti.